Il segreto. Marias ci dice che c'è un tempo per il segreto, lo scrive in questo passaggio in cui dice mantiene il silenzio chi già possiede qualcosa e la può perdere, non chi l'ha già persa o sta per possederla. Quindi il segreto è custodito, realizzato nel momento in cui si possiede qualcosa. E a proposito di segreti e conoscenza poi più avanti scrive la propria vita non dipende dai fatti, da ciò che uno fa, ma da ciò che si sa di lui, da ciò che si sa che ha. Il tema è molto interessante e ci riporta ancora una volta al tema della conoscenza. Il segreto si racconta, ma ecco che c'è questa distorsione. Il raccontare corrompe la realtà. È come in fisica il principio di indeterminazione, per cui nel momento in cui l'osservatore osserva qualcosa la cambia. Ecco, nel momento in cui noi raccontiamo una cosa è come se la cambiassimo. Solo ciò che è nascosto è reale, ciò che viene raccontato in quel momento diventa immediatamente qualcosa di corrotto, diventa simbolo, diventa analogia. E qui c'è un passaggio veramente, veramente bellissimo a proposito di ciò che noi cerchiamo nei romanzi, nei film, nelle canzoni. Ascolta cosa scrive Marias. Ed è forse questo che ci spinge a leggere romanzi e articoli e a vedere film. La ricerca dell'analogia, del simbolo, la ricerca del riconoscimento, non della conoscenza. Questo è bellissimo perché appunto quando vediamo un film, ascoltiamo una canzone, leggiamo un romanzo, in realtà non stiamo leggendo, vedendo, ascoltando ciò che l'autore di quel messaggio ha scritto, ha cantato, ha suonato. No, noi cerchiamo noi, cerchiamo la parte di noi che è più visibile all'interno di questi contenuti. E forse questo è anche il senso della letteratura. Lo scrive poi più avanti fuori dal romanzo in un appendice in cui spiega la sua poetica.